Cari amici followers, oggi giovedì 29 ottobre 2015, non appena terminato il primo video messaggio, ecco che si fiondavano immediatamente quelli dei lavori in corso, nemmeno vivessi in un bunker di fallucia. Per poi andarsene, non appena le aliene e le scrofe mafiose dell'opus Dei, attivavano la fase super assorbente, ossia quando ti prosciugano i sali dal cervello, perché secondo la sopraffina scienza opus Dei, i cervelli senza sale hanno sempre sete di cello. Ci vediamo nei prossimi video messaggi!